Musica Si avvia verso la conclusione la campagna di vaccinazione degli over 80 in coda alle coemerate 200 anziani senza appuntamento aperte in anticipo le prenotazioni per la fascia 70-75 Hanno prenotato una notte in una fitta a camere per fare una festa nove ragazzi multati dalla polizia per inottemperanza delle norme anti-covid il titolare della struttura è stato denunciato Musica Non si ferma l'incendio sul Monte Croce a Esinolario in azione elicotteri e Canadair per domare le fiamme attive da ieri diversi roghi favoriti dal vento e dalla siccità I sindacati lanciano un appello per salvare i dipendenti di Rete Salute l'indebitata azienda speciale dei servizi alla persona del Meratese con i soci chiamati a decidere sul suo futuro Musica Buonasera ben ritrovati con l'informazione locale di Unica TV edizione di Lecco Si avvia verso la conclusione la campagna vaccinale degli over 80 ma in un solo giorno sono stati circa 200 gli anziani senza appuntamento che si sono presentati nei centri di Lecco e Merate per essere immunizzati Intanto aprono le prenotazioni per la fascia 70-75 e per chi è affetto da gravi disabilità Sono circa 200 solo nella giornata di mercoledì gli over 80 che si sono recati ai centri vaccinali di Lecco e Merate per effettuare la prima dose del vaccino nonostante non abbiano ricevuto la convocazione via SMS Fino all'11 aprile infatti coloro che hanno richiesto l'iniezione senza appunto avere risposta da Regione Lombardia possono presentarsi spontaneamente in uno dei poli vaccinali per essere immunizzati Gli ultraottantenni che invece non si sono ancora registrati dal 7 possono farlo tramite il portale di poste italiane che ha sostituito quello di Aria Mio marito aveva fatto la prenotazione tramite farmacia però è passato un mese, sono passati qui, insomma non è arrivata la chiamata Ci hanno detto ma provate a telefonare, ma telefonare era un'avventura Allora ha letto sul giornale che gli ultraottantenni potevano venire senza essere stati chiamati sono venuti ieri mattina ed è stata una cosa tranquilla, organizzata bene Anche mia cognata ha seguito lo stesso procedimento Intanto al centro vaccinale del Palataurus di Lecco inaugurato la scorsa settimana si procede con la somministrazione delle seconde dosi agli over 80 e da lunedì comincerà la campagna massiva Già possibile da qualche giorno prenotare il vaccino sul portale di poste per coloro che hanno tra i 75 e gli 80 anni e da oggi anche per la fascia 70-75 Da venerdì 9 poi potranno farlo anche le persone estremamente vulnerabili non in carico a strutture ospedaliere o con disabilità gravi Seconda dose allora oggi Seconda dose è andata benissimo, basta, non ho sentito niente Contento? Contentissimo Felice e contento, meno male così non ci pensiamo più perché è un impegno anche questo Veramente strutturati bene e organizzati bene Sono affiatati, medici, infermieri, è tutto ben coordinato Avevo il portamento all'ospedale ma mi hanno scritto e perciò sono venuto qui Quindi le è arrivato un messaggio? Un SMS Tranquillissima, non ho sentito niente, tranquillissima sono E adesso attende i 15 minuti dopo il vaccino? Sì, 15 minuti per poter andare a casa Sono venuto a vedere se dovevo andare qui o in ospedale Mi hanno detto no, già che c'è rimanga qua e quindi sono rimasto Ho organizzato bene, mi sono trovata bene per cui tranquillo, tutto tranquillo Hanno affittato un appartamento per fare una festa Nove ragazzi sono stati multati e il proprietario della struttura ha denunciato I fatti sono avvenuti nella nottata del 28 marzo In via Giacomo Leopardi, Alecco e agenti della squadra volanti Sono intervenuti in un condominio per una segnalazione di forti schiamazzi All'interno di un'abitazione all'ultimo piano I poliziotti hanno trovato nove ragazzi, otto uomini e una donna Di età compresa tra i 19 e i 29 anni Nessuno è risultato residente a quell'indirizzo L'appartamento era infatti stato prenotato il giorno precedente Attraverso una piattaforma online Il titolare della struttura ricettiva non aveva segnalato Tramite l'apposito portale l'occupazione dell'abitazione I giovani hanno tutti ricevuto una contravvenzione Per inottemperanza delle norme anti-covid Il titolare è stato denunciato all'autorità giudiziaria Per non aver comunicato all'autorità di pubblica sicurezza Le generalità delle persone alloggiate Oltre che segnalato al comune per attività senza licenza Non si ferma l'incendio boschivo Attivo da ieri a Esino Lario In campo elicotteri e Canadair per domare le fiamme Il meteo favorisce i roghi Diversi interventi dei vigili del fuoco nel territorio Vento forte e assenza di precipitazioni Provocano l'aumento del rischio di incendi boschivi Tre quelli registrati in provincia di Lecco negli ultimi giorni Uno dei quali particolarmente esteso è ancora attivo I vigili del fuoco hanno spento due roghi sul Cornizzolo Nel territorio comunale di Civate E a Lecco nei boschi sopra via Stelvio Non si ferma invece il vasto incendio in corso La mercoledì sul Monte Croce a Esino Lario Importante dispiegamento di uomini e mezzi Per riuscire a fermare l'avanzata delle fiamme In azione tre autobotti da 7.000 litri Tre elicotteri antincendio privati della comunità montana Un elicottero Ericsson e un Canadair del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Oltre a numerosi pompieri del Comando Provinciale e delle squadre antincendio boschivo Gli ingenti prelievi d'acqua per domare le fiamme Potrebbero causare interruzione del servizio idrico nelle abitazioni Avverte il Comune Gli avvisi di criticità emessi dal Centro Monitoraggio Rischi di Regione Lombardia Spiega l'assessore al territorio di protezione civile Pietro Foroni Hanno confermato la persistenza di condizioni meteorologiche favorevoli allo sviluppo di incendi L'obiettivo è proseguire nelle attività di monitoraggio Per prevenire eventuali ulteriori criticità Al momento è proprio l'incendio di Esino l'unico attivo in regione con elicotteri impiegati La sala operativa della protezione civile regionale Ha registrato da gennaio 2021 ad oggi 126 incendi boschivi sul territorio lombardo Secondo uno studio della Will dell'Ario Sono in calo le ore di ammortizzatori sociali Chieste dalle aziende della nostra provincia Restano però ancora pesanti le conseguenze della pandemia Sentiamo Ci vorranno anni per superare la crisi economica Innescata dalla pandemia Anche se non mancano i dati incoraggianti Numeri che emergono nell'analisi dell'impiego degli ammortizzatori sociali Nelle province di Lecco e Como Da parte della Will dell'Ario Il sindacato ha confrontato le ore di cassa chieste dalle aziende Nei mesi di gennaio e febbraio a un anno di distanza Un dato significativo perché nel primo primestre 2020 Non era ancora esplosa la pandemia Innanzitutto a febbraio di quest'anno in provincia di Lecco Le ore di ammortizzatori sociali si sono ridotte del 51% rispetto al mese precedente E del 30% rispetto all'anno scorso Se si considerano invece i due mesi nel complesso In un anno la differenza di ore di cassa integrazione richiesta Segna un aumento del 95% Focalizzando l'analisi sul settore metalmeccanico Invece le ore di ammortizzatori sociali impiegate dalle aziende lecchesi del comparto Segnerano una contrazione nei due mesi del 12% Complessivamente nel primo primestre 2020 I lavoratori lecchesi che usufruivano degli ammortizzatori sociali Erano circa 1800 tutti nell'industria Salvo 24 nell'edilizia Nessuno nei comparti del commercio dei servizi A un anno di distanza il numero è raddoppiato Con una crescita di 1000 unità nell'industria E di oltre 700 nel commercio Il quadro però è parziale e importante Spiega Salvatore Monteduro, segretario generale della UID dell'Ario Il ruolo che sta giocando la cassa inderoga Uno strumento che copre una platea di lavoratrici e lavoratori Per i quali non è previsto alcun ammortizzatore sociale Ai quali però bisognerà dare una risposta strutturale Attraverso la riforma degli ammortizzatori stessi Oltre alla proroga del blocco dei licenziamenti Prosegue Monteduro È necessario rilanciare la ripresa economica E quindi l'occupazione Dando concretezza al piano nazionale di ripresa e residenza In tal senso buono il lavoro che si sta realizzando Ai tavoli della competitività di come lecco Per definire infrastrutture importanti Che consentano uno sviluppo sostendibile dei nostri territori Una tubazione lunga tre chilometri e mezzo Sul fondale del lago di Annone Al via i lavori per il raddoppio dell'acquedotto Brianteo La principale conduttura idrica del territorio lecchese Parte di essa sarà subacquea Al via uno dei progetti più importanti del 2021 Per il servizio idrico della provincia di Lecco Un investimento da circa 7 milioni di euro A servizio di oltre 60 comuni e 300 mila persone L'Arioreti Holding, società pubblica lecchese Ha avviato il potenziamento dell'acquedotto intercomunale Brianteo Due le tratte Tra Valmadrere e Civate e tra Civate e Dolzago Quest'ultima in parte sarà realizzata sul fondale del lago di Annone L'acquedotto Brianteo è la principale rete idrica in gestione All'Arioreti Holding Nasce dal potabilizzatore di Valmadrera Che aspira l'acqua a circa 40 metri di profondità nella baia di Parè E potabilizza fino a 1000 litri d'acqua al secondo Ovvero 14 dei 26 milioni di litri di acqua distribuiti Il raddoppio dell'acquedotto Brianteo porterà notevoli vantaggi Assicurando la continuità nell'approvvigionamento idrico Anche in caso di interventi di manutenzione E la riduzione delle perdite La tubazione che verrà posata sullo fondale del lago di Annone Il tratto certamente più complesso dell'opera Sarà lunga 3,5 chilometri Alta tra 1 e 2 metri Avrà un diametro di 60 centimetri Sarà di acciaio E verrà ancorata al fondale tramite dei pali Posizionati a una distanza di circa 55 metri l'uno dall'altro I pali di ancoraggio avranno una lunghezza di circa 20 metri Saranno quasi interamente inseriti nel terreno L'intera operazione sarà realizzata con delle chiatte galleggianti Prima di avviare le opere saranno effettuate delle verifiche archeologiche sul fondale I lavori saranno sospesi tra maggio e ottobre Per rispettare il ciclo naturale di flora e fauna lacustre La nuova rete non avrà impatti visivi sullo scenario paesaggistico Le linee guida che ci hanno dato tutti gli enti coinvolti nel progetto sono chiare Spiega Lelio Cavalier, presidente di Lario Reti Holding Effettuare i necessari interventi nel rispetto dell'ambiente e della biodiversità della zona Riducendo al minimo l'impatto su di essi e sulle attività dei residenti E di chi fruisce le sponde del lago di Annone Si tratta della soluzione più rapida, meno impattante sulla viabilità e sui residenti E anche più economica per raggiungere Dolzago da Civate E restiamo in tema Lario Reti Holding rende noto di aver concluso i lavori di adeguamento Delle reti di fognatura delle vie Monte Grappa Po, Promessi Sposi e Brianza nel comune di Merate L'investimento dal valore di 700 mila euro Si inserisce in un ciclo di opere dal valore totale di 1,1 milioni di euro E dedicate alla risoluzione delle problematiche di allagamento presenti sul territorio comunale Si discute il futuro di Rete Salute L'azienda speciale che gestisce i servizi alla persona nel distretto di Merate Che ha accumulato debiti milionari e deve essere liquidata Mentre i comuni soci sono chiamati ad esprimersi sul futuro I sindacati lanciano un appello per i dipendenti Nuovo capitolo dell'intricata vicenda di Rete Salute L'azienda speciale costituita dai comuni del distretto di Merate Per gestire i servizi sociali in forma associata Come noto l'azienda ha chiuso in passivo i bilanci dal 2015 al 2019 Totalizzando un buco milionario Una condizione che decreta per legge la necessità di liquidare la società Nonostante ora i conti sembrano essere in ordine In vista dell'assemblea convocata per il 14 aprile Ciascun comune socio sta valutando come procedere I consigli comunali di Osnago e Sirtori hanno votato per la liquidazione Il comune di Olgiate ha invece proposto il rinvio dell'assemblea dei soci Chiedendo un parere alla Corte dei Conti della Lombardia A Cernusco la seduta che doveva affrontare la questione è stata sospesa Il quadro insomma è incerto A fronte di tutto ciò si registra la presa di posizione di CGL Cislewil Che negli scorsi giorni hanno incontrato il consiglio di amministrazione dell'azienda Il pensiero va innanzitutto ai dipendenti Nessun amministrativo, nessun psicologo, nessun assistente sociale, nessun educatore E nessun operatore socio-sanitario Scrivono i rappresentanti di categoria Dovrà essere messo in discussione nelle scelte operate dai comuni soci Per il prossimo futuro I sindacati evidenziano i buoni numeri che l'azienda sta ottenendo dallo scorso anno E il fatto che i comuni stanno accantonando in bilancio le risorse necessarie A ripianare il buco accumulato Ciò che ci sentiamo di rimarcare in questo momento Proseguono i sindacati L'ennesima conferma della nostra fiducia per il modello che Rete Salute ha rappresentato in tutti questi anni Con una gestione associata dai servizi alla persona e alla famiglia Che ha scongiurato la privatizzazione attraverso la gestione pubblica degli stessi servizi È necessario agire rapidamente Concludono i sindacati Dare continuità alle azioni già in atto Portare definitivamente Rete Salute fuori dalle difficoltà Lavoro in corso fino al 24 aprile nella carreggiata nord della Galleria Montebarro Personale di Anas sarà impegnato a pulire e verificare il tunnel Che sarà chiuso al traffico dalle 21 alle 6 Tra l'uscita di Civate e l'ingresso di Pescate La limitazione sarà sospesa nelle notti tra sabato e domenica Domenica e lunedì Nelle notti dei giorni festivi e prefestivi Ogni mercoledì alle 17.20 su Unica TV Appuntamento con Panoramic Workout Dieci minuti di allenamento per rimanere in forma Riscoprendo il territorio lecchese insieme a Silvia Valsecchi Ciao sono Sbirbi e questo è il mio Panoramic Workout Attività motoria e territorio lecchese sono queste le due componenti di una nuova trasmissione che andrà in onda su Unica TV Di che cosa si tratta? Si tratta del Panoramic Workout che è un nuovo programma di allenamento outdoor Che fa scoprire i posti panoramici del nostro territorio e allo stesso tempo ci mantiene in forma o comunque in movimento Si può davvero fare da qualsiasi posto quindi da casa propria oppure prendere spunto dagli episodi per recarsi in quel luogo e allenarsi Basicamente sono 10 minuti di allenamento in cui si lavora per 45 secondi e 15 secondi ci riposiamo E sono focalizzati ogni puntata su una parte del corpo diversa Come è nata questa idea? L'idea è nata in realtà da un'esperienza che io ho sempre organizzato che si chiama appunto Panoramic Workout Per i turisti e chi viene sul territorio lecchese Ho pensato che adesso i lecchesi avendo avuto probabilmente voglia di riscoprire il proprio territorio Possa essere appunto anche un'occasione per loro di riscoprire con altri occhi casa nostra E soprattutto anche di mantenersi in forma abbiamo tutti sentito questa esigenza in questo anno così particolare Si penso che stare chiusi in casa probabilmente sia stata una delle cose più difficili Infatti chiunque ha iniziato a fare fitness indoor e probabilmente appunto questo programma la cosa che ha voglia di fare è motivare le persone a muoversi Quindi può essere proprio un appuntamento fisso che uno si prende con se stesso E io vi aspetto con me per un allenamento outdoor tutti i mercoledì alle 17.20 su Unica TV Appuntamento da non perdere anche perché con il lockdown siamo ingrassati un po' tutti Prima di chiudere vi ricordo che potete seguirci come sempre sul nostro sito teleunica.com E su tutti i nostri canali social Grazie per essere stati con noi, buona serata Grazie a tutti